...e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste, il tempo che verrà... Molti mi hanno chiesto perché hai fatto questi film, ho fatto due film e ne sto facendo un terzo e un ultimo su quello che mi è accaduto. Mi hanno chiesto perché li hai fatti e io sono soprattutto un documentarista da più di vent'anni, non potevo non fare un documentario sulla cosa più interessante che mi era accaduta.